Terza fatica in nove giorni, domani al Ventura a partire da ore 15 per la 29esima giornata di Serie C arriva un Catania in affanno che non ha mai vinto nelle ultime cinque partite e che ha collezionato tre punti. Ne può e ne deve approfittare, insomma il Biceglie ancora in corsa per la conquista della permanenza diretta tra i professionisti. Noi abbiamo bisogno di crescere nelle prestazioni, abbiamo avuto una crescita volta per volta e siamo chiamati non tanto a pensare agli altri che sappiamo essere una squadra forte dal punto di vista dell'organico, delle capacità, dell'esperienza ma noi siamo convinti che in questo campionato possiamo fare meglio con tutti. Dipende da noi e da quanto amore mettiamo in ogni situazione che andiamo ad affrontare. Sei partite con Aldo Papagni in panchina, altrettanti punti collezionati, i tre della vittoria contro la Viterbese e quelli ottenuti con Avellino, Turris e Monopoli per quanto seminato. Il Biceglie avrebbe meritato qualcosa in più, resta però al termine di questo ciclo di gare la sensazione di una crescita netta del gruppo in termini di autostima e personalità. Più di ogni cosa però in questo momento servono i punti da conquistare anche contro squadre più esperte e maggiormente quotate. In ogni partita avremo come obiettivo di scattarci, di dare il meglio di noi stessi, di cercare di battere l'avversario che andremo ad affrontare per cui come dicevo prima interessa soprattutto l'aspetto di attenzione, di concentrazione tecnico, tattico, di aiuto reciproco che ci metteremo noi dentro. Io ho visto una squadra che naturalmente è uscita incavolata per la perdita dei due punti come tutti noi, come penso anche i tifosi, la società, tutto lo staff, però una squadra con la consapevolezza che questa è la strada giusta e quindi crediamo di poter offrire una buona prestazione contro il Catania per prendere dei punti. Il Catania, ferito dalla sconfitta rimediata nel derby di Sicilia contro il Palermo ma sempre quinta forza del raggruppamento, è avvisato.